Siamo con il Capitano, possiamo dire vincitori del terzo posto. Sì, il Capitano simpatia perché il Capitano non è troppo simpatico, non gli piace perdere, poi c'è il petto grosso. Hanno mandato qui la mascotte della squadra. Siamo simpatia, sì. Sei comportato bene in campo e hai fatto fatica? Sì, mi sono benino. Nella semifinale abbiamo un po' litigato con qualcuno, ma sembravi ragazzi. Però sempre nel campo della sportività. Sportivissimi, nel lavoro e nel campo sempre sportivissimi. È diventato serissimo, noi eravamo pronti alla Papu Dance invece perché notavo una somiglianza. C'è anche il coro dietro, è tutta la spara che ti spiega. Però abbiamo giocato una buona partita. Sto interpretando un altro personaggio del calcio, mi sa. Penso che abbiamo fatto comunque bene, Paolo lì ha avuto un problema in difesa, però a un certo punto è stata presidente, domani andiamo in CDA, non lo so come domani sarà domani. Questa è la super preparata però. Sì, sì, sono preparato. Il problema è che mi tocca farlo anche in ufficio questa cosa qui. Vabbè, voto di stasera la squadra? 9 più. 9 più. Bravi, bravi. Abbiamo dovuto chiedere se hai le ore di permesso e domani usciremo alle 4 di mattina. E quindi, no, un 9 più. Bravi, 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 bravi. Grazie. 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 Grazie a tutti